12 persone sono state arrestate e poste ai domiciliari e una sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell'ambito della operazione denominata l'isola che non c'è, condotta dalla Digos di Catanzaro con l'ausilio della direzione centrale della polizia di prevenzione e con il coordinamento della procura del capoluogo calabrese e con il coinvolgimento delle questure di Cosenza, Genova, Lucca, Perugia, Padova, Teramo e Trapani e che ha portato alla luce la truffa dello stato teocratico antartico di San Giorgio. I reati contestati sono associazione a delinquere, truffa, fabbricazione e possesso di documenti falsi, espatrio e riciclaggio. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Catanzaro. L'indagine è partita il 7 aprile del 2021 da una perquisizione in un immobile di Catanzaro indicato come sede diplomatica del presunto Stato. A seguito degli approfondimenti investigativi è emersa così l'esistenza di un'associazione a delinquere operante su tutto il territorio nazionale, con principali nuclei territoriali a Catanzaro, Alcamo e Teramo, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di truffe basate sul raggiro, basato proprio sull'esistenza dello stato teocratico antartico di San Giorgio, come soggetto dotato di un'autonoma sovranità e di connessi privilegi in forza del Trattato Antartico del 1959. È lungo l'elenco di accuse che la procura di Catanzaro muove nei confronti di Mario Farnesi, 72enne ex generale della Guardia di Finanza in pensione. Riciclatosi, sostengono i giudici, come riferimento operativo di tutte le ramificazioni dello stato teocratico e artefice del lodo con cui è stata fittiziamente accreditata l'esistenza e il riconoscimento dello stato teocratico.